Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video del mio canale YouTube. Voglio iniziarla così, oggi compio 22 anni. 22 anni fa oggi nascevo, ne ho passate tante, ne ho viste tante, ma sicuramente sono ancora per fortuna molto giovane e ne dovrò vedere ancora tante. Quello che volevo fare con te oggi che stai guardando questo video è qualcosa di secondo me molto carino ed è spiegarti quello che dal mio punto di vista sono state le sette cose che mi hanno fatto imparare di più fino a questo momento da cui ho preso più spunto e da cui sicuramente potrò continuare a prendere spunto anche per il mio futuro. Le sette cose a cui io sono comunque strettamente legato sono sette cose che ho amato e odiato e continuare ad amare e odiare per tutta la vita. Alcune sono veramente delle cose per me fondamentali in questa vita, altre sono invece cose che io ho detestato tantissimo ma che mi hanno permesso comunque di capire qualcosa di importante. La prima, beh, ho fatto un video una settimana fa con mio papà chiedendogli scusa, sicuramente la prima cosa importante per me fino a questo momento è stata la famiglia. La famiglia mi ha permesso di capire il valore dell'amore, mi ha permesso di capire quanto è importante in questa vita amare. Non amare necessariamente a livello di relazione amorosa, quindi di una ragazza o di un ragazzo, quanto invece a livello proprio di umanità, a livello proprio di vita, amare la vita, essere legati a questa terra, a questa vita e essere consapevoli che non durerà per sempre e quindi l'amore incondizionato nei confronti del prossimo. Questa è una cosa che mi ha fatto svoltare quando l'ho capita veramente. Continuerò a farmi discutere con i miei genitori, i miei fratelli, perché ho un carattere anche molto forte, ma sicuramente mi ha permesso di capire quanta importanza c'è dietro questa parola, che appunto sembra una parola molto semplice, in realtà dietro a un mondo di cose. La seconda cosa che mi ha permesso di imparare quanto sia importante questa vita, quanto sia importante dare un valore a questa vita, è la Disney. È la Disney perché ci sono cresciuto, perché i miei genitori da quando ho un mese praticamente mi hanno messo davanti un televisore in film della Disney. Poi crescendo sono sempre rimasto molto legato a questa cosa, a questa grandissima azienda. Mi ha permesso veramente, quando ho fatto delle ricerche dietro al signor Walt Disney, di capire quanto importante sia sognare. Perché se al primo posto c'è l'amore, dopo l'amore vengono i sogni. Perché amare significa anche sognare. Sognare un qualcosa per poterlo realizzare, sognare di laurearsi, sognare di diplomarsi, sognare di trovare un lavoro, sognare di prendere una casa, una macchina. Noi se ci pensi facciamo sempre riferimento ai sogni. Perché i sogni sono dappertutto, sono quando andiamo a dormire l'ultimo nostro pensiero e il primo la mattina appena sveglio. Veramente, dopo l'amore l'importanza di questa vita è sognare. Se non hai un sogno, purtroppo vivrai sempre una vita senza dare valore alle cose che ti succedono. E quindi è fondamentale questo passo. La terza cosa che veramente mi ha permesso di capire il significato di un obiettivo, di un sogno, è la scuola. Perché la scuola ti insegna una cosa, la mentalità. Purtroppo, devo dire che in questo caso, la scuola è stata una di quelle cose che io ho detestato e continuerò a detestare. Quindi la scuola ti insegna una mentalità sbagliata rispetto a quella che poi la vita ha là fuori. Per tutto il tempo scolastico vai avanti a crederti un genio se fai le cose fatte bene, uno un po' più con dei problemi se hai dei voti brutti, uno nella media se hai dei voti normali che alla fine non fa fatica ad andare avanti. Il concetto però è molto semplice. Einstein lo diceva benissimo. Ok? Tutti noi siamo dei geni, diceva. Però se tu giudichi un pesce dalla sua capacità di scalare un albero, passerà la vita a sentirsi inadeguato. E questo succede a scuola. Noi non siamo tutti uguali. Io ho delle capacità, il mio compagno di classe non è un'altra, la mia compagno di classe non è un'altra ancora. E se ci giudicano tutti per le stesse cose, noi continueremo per tutta la vita ad andare avanti con l'ansia di un voto, di un giudizio, di un numero. E questa è una mentalità sbagliatissima che ci mette in testa la società per restare lì, fermo, tranquillo, a non rompere troppo le scatole. Il quarto step per me fondamentale è stato il calcio. Il calcio mi ha permesso di capire il valore di un gruppo, che può essere un valore di un gruppo in ambito di amicizia, in ambito familiare, in ambito lavorativo. Il valore di un gruppo ti permette di raggiungere o di non raggiungere un determinato sogno o un determinato obiettivo. Questo è fondamentale. Noi siamo la media delle cinque persone che frequentiamo di più. E se siamo la media delle cinque persone che frequentiamo di più, capisci bene che se tu hai un sogno, ma quei quattro amici che hai, quei cinque amici che hai, ti prendono in giro, continuano a dirti che non ce la farai mai, oppure sono gente che sta dietro alle cose poco importante della vita, tu ad un certo punto inizierai a sentirti inadeguato, a sentirti come la pecora nera del gruppo e quindi capirai presto che loro sono l'esempio da seguire, non tu. E questa è una cosa che ti può appunto portare a vincere nella vita o a perdere totalmente te stesso. Il quinto punto è proprio il lavoro. Il lavoro di cui ti stavo parlando poco fa ti insegna invece ad essere un vincente o un perdente. Il lavoro, lo diceva Confucio, trova un lavoro che ami e non lavorerai neanche un giorno della tua vita. È proprio così. Il lavoro, se fai un lavoro che ti piace, se fai un lavoro che ami, può portarti ad essere un vincente, nella vita soprattutto. Quando arrivi a casa sei contento di quello che hai fatto, quando devi andare in vacanza o comunque in ferie. Sai che quando tornerai avrai qualcosa che ti piacerà fare. Viceversa, se odi totalmente quello che fai, il lavoro è l'attività che ti occupa più ore durante il corso della giornata, mi dispiace, ma ti porterà all'esasperazione, ti porterà ad essere un perdente purtroppo. Nei rapporti personali, interpersonali, con la famiglia, non ti permetterà di vivere a pieno e al massimo delle tue potenzialità e delle tue qualità questa vita. Il sesto punto fondamentale per me è quello che mi sta insegnando di più sono i libri, perché i libri ti portano alla cultura. La cultura porta alla bravura, l'ignoranza non porta a niente. Io fino a quarta, quinta superiore non aprivo per dirti neanche un fumetto della Disney, di Topolino, nonostante io ami veramente la Disney. Non leggevo mai, non capivo il significato di leggere, eppure a scuola ti insegnano leggi, leggi, leggi. Ecco, forse uno dei pochi aspetti positivi nel nostro paese della scuola è che quantomeno ci provino a insegnarti a leggere. Leggere è fondamentale per portarti a una cultura, per portarti ad aprire la mente e a capire anche quello che tu vuoi fare nella tua vita. Questa cosa è fondamentale. L'ultimo step, il settimo, ed è quello che racchiude tutto, il più importante, non potevo non citarlo, la quarantena. Mi ha insegnato una cosa fondamentale, la libertà. La libertà racchiude tutti i sette punti di oggi, di questo video, perché tu puoi avere, puoi amare, puoi sognare, puoi essere acculturato, puoi avere un lavoro che ti piace, puoi avere un gruppo vincente, puoi avere una mentalità vincente, ma se non hai la libertà, soprattutto dentro di te, purtroppo non vivrai mai, mai, mai una vita che rispecchi la persona meravigliosa che sicuramente sei. E in quarantena, quando ci hanno rinchiusi tutti, io ho capito veramente cosa significa la libertà. Che non è solo andare al bar, a bersi un caffè con gli amici, oppure andare a lavoro, oppure andare a giocare a calcio. La libertà significa svegliarsi la mattina e scegliere quello che io deciderò di fare oggi. E la quarantena invece è stato tutto il contrario, era alzarsi la mattina e aspettare che arrivasse la fine di una giornata per arrivare presto alla fine della quarantena. È un po' come la vita. Molte persone vanno a dormire a sera, si svegliano la mattina sperando che arrivi in fretta al weekend, che arrivi in fretta il giorno dopo, ma non si rendono conto che tutto questo non farà altro che avvicinarli alla fine dei suoi giorni. Bisogna viverla questa vita, bisogna viverla pieno. Spero che questi sette punti ti siano stati veramente di aiuto, perché sono quelli che a me hanno trasmesso tutto quello che io ho imparato fino ad oggi in questi 22 anni. Spero che se tu sei giovane come me riesca a prenderne spunto. Ovviamente tu avrai i tuoi punti fondamentali che ti stanno aiutando a crescere. Se sei un adulto, probabilmente in alcune di queste cose che ho detto ti ci rivedrai. Spero veramente che anche solo uno di questi punti possa aiutarti nel tuo piccolo a svoltare, a cambiare la mentalità e ad ottenere quella giusta cattivere, diciamo così, per andarti a prendere il futuro. Perché è quello che meritiamo di fare tutti noi. Io mi auguro che tu possa avere una buona evoluzione e noi ci vediamo nel prossimo video.